Allora, ho sentito questo capitolo, è assurdo, e quindi io ringrazio anzi anche... Ah, Eric99 per l'abbonamento e ringrazio Dottor Nabbo per l'abbonamento. Allora, questa è la copertina del... Ma chi comanda? Non comanda nessuno, però il canale è il mio. Tutto ciò che è OnePiece.it praticamente è riferito a me. E Fabrizio che però sta dietro le quinte, sono io a gestire. Copertina del Weekly, questa copertina l'avevo già vista, che è la cover a colore che è bellissima ragazzi, è stupenda. E i quattro imperatori, grazie ai re dei Piragna. Oh, si comincia! Capitolo 1054. L'imperatore delle fiamme, l'imperatore delle fiamme, l'imperatore delle fiamme, l'imperatore delle fiamme. Wano, capitale dei fiori. Denjiro, anche tu? Non possiamo incasinare rufi agli altri. Vieni con noi, gatto! Eh? Ed eccolo, il fighissimo, l'imperatore delle fiamme. Provo a indovinare chi è. Le fiamme mi viene in mente Sabbo. Cioè, è l'unica che è l'imperatore delle fiamme. Il potere di influenzare gli altri è qualcosa di molto raro da vedere in giro. Eh? Bellissima. Quindi praticamente ci sono Raizo, Shinobu, Inuarashi, Denjiro, Neko e Kawamatsu di fronte. Voi samurai dovreste togliervi di mezzo finché potete! Minchia. Minchia? Subbottimo. Subbottimo. Splash page. Splash page noi lo facciamo così. Vediamo un attimo. Noi li sto parlando al plurale. Andiamo. Un marine! È uno dei nemici di rufi nel mondo esterno! Avete idea di come funziona il mondo fuori di qui? I draghi celesti sono delle divinità. Un paese come questo, che non ha legami col governo mondiale? Non ha alcun diritto! Non prendetevela! È così che va il mondo! Comunque, Toro Verde, ragazzi, una figata. Cioè, nel senso, porca puttana quanto è cattivo. Ci voleva un cattivo del genere. Basta altri personaggi alla fucitore. Un marine, un ammiraglio del genere ci voleva. Ci voleva. Grande. Grandissimo. Vediamo un po'. Oddio. Mamma mia. Mamma mia. I pugni come al... Mamma mia. Mamma, sta così con i pugni come al... Mamma... Ma guarda qui la faccia. Mamma mia. Il frutto Morimori mi ha reso un uomo foresta. Questo è il mio frutto roggia. Io sono la natura stessa. Una fonte di vita proprio come il mare. Nota foresta dell'odio proibito. Mamma mia, che bello, ragazzi. È bellissima, sta immagine. Questa immagine è bellissima. Quindi è un roggia. È un roggia. È un roggia. Sali un attimo. Dove devo salire? Ah, Kinniku Morimori. L'avevo persa questa. Kinniku Morimori. Che è appunto la tecnica... Che avevamo foresta dell'odio proibito. Mamma mia. Mamma mia, raga. Mamma mia. È un roggia. Allora, ragazzi. Al Rimini abbiamo incontrato il Joe Aiena. E Aiena ci aveva detto... Per me è un roggia. Era sicurissimo del fatto che fosse un roggia. E ci ha preso. Ci ha preso completamente. È un roggia. Ci sta. Ci sta. Ci sta bello. Una fonte di vita. Proprio come il mare. Ma non è che questa frase presuppone che ci sia anche il frutto del mare. No, frutto del mare come in italiano. Frutto dell'acqua, no? Frutto del diavolo del mare. Porca puttana. Il cozza, cozza è bellissimo. Altra splash. Andiamo sempre... Ah, ok. Qua stanno continuando. Sotto loro festeggiano. Uno qui. È tempo che impariate una mara verità. L'umanità riesce a progredire solo perché esistono delle discriminazioni. Ma porca puttana, quanto è cattivo. I paesi non affiliati, come il vostro, devono essere rimessi al proprio posto. È così che si mantiene l'ordine. La discriminazione garantisce stabilità. Mamma mia. È figo, figo. Cioè, ogni volta che viene inserito un ammiraglio, alla fine Oda... Fascistone, è vero. Alla fine Oda veramente riesce ad ognuno di loro a dare una propria idea politica, una propria etica. Bellissimo. E possiamo dire che questo è ancora probabilmente più estremo di Akainu. Guarda, qua siamo proprio all'estremità assoluta. Cioè, sta ancora più al di là di Akainu. Ma Torona è... Mamma mia. Ok, sotto c'è la blind, quindi andiamo... Cioè, c'è la blind, c'è... Che bello. Se io vi cidessi qui, non infraggerei nessuna legge. Rahahahaha, rahahahaha, un'altra risata. Potete provare a fermarvi, a fermarmi. Ma ucciderò migliaia di voi, se questo è quello che devo fare per prendere la testa di Rufy, cappello di paia. Cazzatissimo. Cazzatissimo. Quindi sono schiaffi. Oh! Aspetta. Aspetta. Ogni tua singola parola... Mi fa venire da vomitare! Cavolo! Fa male! Ma che razza di Aki ha! Yamato, ragazzi, è fortissima. Yamato è fortissima. Cioè, Yamato è fortissima. Cioè... Porra capottana, va. Queste persone hanno appena superato 20 anni di tirannia. E ora, finalmente, possono festeggiare la loro libertà. Non ti permetterò di rovinare questo momento. Chi pensi di essere? Yamatodono, lo chiamano gli altri. Io sono Yamato, il figlio di Kaido. Oh, non si è presentata come Oden, ragazzi. Ha detto Yamato. Il figlio di Kaido! Ben detto, Yamato. Non ti permetterò di alzare un dito sui nostri salvatori. Un dra... Ah, è Momonosuke. Tra l'altro, ragazzi... Così... Yamato ha la scusa per avere la taglia. Ha la scusa per avere la taglia. Ha incontrato un ammiraglio. L'ammiraglio, quando andrà via, riporterà che c'è il figlio di Yamato, che è forte. Ci sta combattendo. E quindi... Borobretto! Porca puttana! Ora esce un missilone in Borobretto di chi ha fatto già tutti questi passi avanti con Momonosuke. Cioè, ha alitato, voglio dire. Cioè, che non è uscito. Ha sparato a salve. Ha sparato a salve. Bellissima. Ma giustamente, giustamente. Però ha fatto la fine, l'ha distratto. Un pochino l'ha spaventato, almeno. Ha detto... Dio, santissimo. Eh? Momo! Signor Momonosuke! Non importa! Ti caccerò dalla capitale! Quindi, va a morderlo. Comunque, ragazzi... È bellissimo Troverde. Troverde è bellissimo. Guarda qua. È proprio bello da vedere, pure in questa versione. Porca puttana. Bello, bello. Nessuno seminerà più terrore in questa terra. Ho giurato che non l'avrei mai permesso. Un Drago Rosa. Che strano. È la prima volta che sento parlare di questa abilità. Tra l'altro è da apprezzare Momonosuke che non ha paura di un ammiraglio. E fa quello che gli aveva detto Rufi durante il combattimento con Kaido. Gli dice, ora che hai morso un imperatore, di cosa hai paura. È lui! Combatte! Momonosuke è veramente che è diventato vero shogun di Wano. Scendo piano. Togliti di mezzo! Momo! Yamato! Tu stanne fuori! Cosa? Cosa? Ma che vuol dire ora? È pianissimo. Però è da apprezzare questa cosa che... Che abbia... Cioè nel senso voglia combattere da solo. Il mare che circonda Wano è così surreale. Ma è davvero così? Forza capo! Rufi è diventato... Ma veramente? Ma veramente? Ma veramente? No! Questa è un'immagine finta. Ma veramente? No, è finita. Io me ne vado. No, è impossibile. A Wano, tra l'altro. Il mare che circonda Wano. Cioè... Veramente. No, cioè... Fammi... Cioè nel senso... Ma... Che cazzo sta a fa' Wano ora? Io vado avanti. Ma non è vera sta cosa... Vabbè... Questo posto mi porta alla mente molti ricordi. L'ultima volta che siamo stati qui abbiamo dato l'ultimo saluto al signor... Oden. Momo e Diori saranno cresciuti ormai. Vabbè, qua... San cazzo... Shanks, dato l'ultimo saluto. Capo! Andiamo a trovare Rufi! Ora è diventato un pezzo grosso! Giustamente. Ehi, calmi. Non sono ancora pronto per incontrare Ush... Premio al miglior padre di sempre. Al grandissimo Yasop. Che dopo vent'anni praticamente... Non è ancora pronto a vedere Ush... Porca puttana, eh! Cioè quando lo volevo incontrare... Anche Kid è qui, giusto? Non è passato molto tempo. Da quando quel moccioso ha attaccato Briga con noi. Quindi anche Kid. Ed eccolo, guardalo! Quanto è bello, ragazzi! Quanto è bello, Shanks! Guarda, col sorrisino! Ma guarda qua, pensa! E vede? La... Taglia di Rufi. Guarda quanto è bello, sorridente. Col vento tra i capelli. Flashback. È la nave del Rosso! Sembra che a bordo ci siano degli agenti del CP9! Che rottura! E chi se ne frega! Andiamo! Ush... 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 E lui, ovviamente, sarà... Ma cosa stanno cercando? Non abbiamo a bordo alcun tesoro! Solo un frutto del diavolo di basso rango! Cosa ha di così speciale? È solo il frutto che ti rende di gomma! Credevano! Credevano! Pensavano! Pensavano! Comunque grazie a Gullo966 Per l'abbonamento! Gullo, ho spiegato un pochino la situazione all'inizio della live! Quindi magari recupera quella! Non vorrei riprendere il discorso mentre stiamo leggendo! Ok, qui ci sono tutti... I... I momenti, diciamo, che sta ricordando! Il... Braccio perso! Allora, pensateci un attimo, ragazzi! Comunque... Alla fine, se ci... Se ci pensate, comunque... Shanks ha perso quel braccio! Perché... Ha... Ha scommesso... Su una nuova... Su una nuova era, no? Su... Su Rufy! E... Ora si rende conto che ha vinto quella scommessa! Perché Rufy è diventato effettivamente un grande pirata! Ma mo' sbarcano? Sbarcano a Wano? Andiamo a vedere Rufy? E Shanks che prende a schiaffi toroverde? Perché i nostri ufficiali lo conoscono? Eh no, che cazzo lei? Penso che i nostri ufficiali lo conoscano molto bene! Conoscono davvero Cappello di Paglia? Le voci dicono che è come un'enorme scimmia esagerata! È inarrestabile! Questa cosa è bellissima! Questa cosa è bellissima! Perché... Cioè Rufy è diventato... Così famoso... Così famoso... Che i membri della ciurma... Di Shanks... Che probabilmente si saranno uniti dopo... Cioè lo vedono come uno... Cioè capi... Cioè i membri di un imperatore... Che sono... Abituati... A Shanks... Vedono Rufy come un mostro assurdo! Capito? Il bello è che lo dice una scimmia... È vero dice una scimmia esagerata... Lo dice una scimmia... Non voglio rivedere Rufy qui! Cosa? Ok... Avete dimenticato cosa sta accadendo ora nei nostri territori? Ah sì! Quel Bartocoso! Quel Bartocoso raga! Vabbè lo dicevamo! Lo dicevamo ragazzi! Lo dicevamo! Lo dicevamo! Cioè nel senso che non potevano lasciare passare la questione di Bartolomeo quindi... Ah sì! Quel Bartocoso che ha detto di essere un uomo di Rufy! Ha bruciato la nostra bagliera e issato la sua! Perderemmo credibilità se lasciassimo scivolare via questa cosa! Giustamente! Tra l'altro raga... Ehm... Non se ne fottono un cazzo... Del fatto che... Che sia un uomo di Rufy! Quindi... Rufy è un rivale! Vanno... Vanno contro! Quindi andranno a prendere a schiaffi Bartolomeo... Anche se è un uomo di Rufy! E... Questo potrebbe essere comunque la scusa di un confronto futuro! Non di un confronto tra due nemici ma tra due rivali! Beh... Penso... Ehi Beck! Cioè il sa che... Che ne pensi che sia ora di andare a prendere... Lo One Piece? Cioè... Che vuol dire sta cosa? Ehi Beck! Non pensi che sia ora di andare a prendere... Lo One Piece! Ma che bella tavola! Guardala che figa! Che bella tavola! Cioè questo... Raga... Sono vent'anni che la gente... Si sta prendendo a schiaffi... Arriva sto tizio... Cioè arriva Shanks... E dice... Oh... Sai Beck! Domani... Andiamo a fare un po' di spesa... No? Poi dopo ci fermiamo al bar... Ci beviamo uno sprizzettino... E poi dopo ci prendiamo pure One Piece! Va! Che dite? Cioè praticamente è così che fa! Comunque mamma mia... Questa l'ha fatta anche per... Per il... Per il film! Questo l'ha fatta anche per il film! Nel senso io credo... Lo dicevamo che prima del film... Sarebbe... Apparso Shanks! Deve un po' creare... Un pochino di... Suspense... E quindi deve un attimo... Fare casini! Però questa è bella! Ah... Per i 25 anni! Giusto! Perché oggi sono i 25 anni! Quindi ha citato il primo capitolo! Però ragazzi! Questa è figa! Questa è figa! Perché vuol dire... Che Shanks stava solo aspettando! E che probabilmente Shanks sapeva... Cioè lo sospettavamo... Che... Ci fosse bisogno di Rufi in versione Joy Boy! Shanks ci deve dire un bel po' di cose ragazzi! Questo personaggio quando inizierà a parlare... Sarà una cosa fighissima! Sarà una cosa fighissima! Andiamo a prendere il One Piece! Però sarebbe stato più bello! Ma poi... I ragazzi mi piace tanti... Bella come... Bella come... Hey Beck! Non pensi che sia ora di andare a prendere? E lui lo guarda? Il One Piece! Porca pottina! E ragazzi... C'è la bottiglia di sake in primo piano! Cioè... C'è il sake? 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 No vi prego no! No ragazzi! Tutto ma la... La teoria del sake no dai! Cioè questo potrebbe essere veramente un grosso suggerimento... Allora, allora, allora... Aspetta, aspetta, aspetta... Aspettate! Allora! Allora, allora... Ragioniamoci un attimo, ragioniamoci un attimo... Ehm... Ragioniamoci! Io credo che il sake abbia un qualcosa di importante... Cioè sia centrale in un qualche modo... Però spero che... Non sia il One Piece il sake! Lo spero vivamente! Non mi piacerebbe! Sarebbe un pochino troppo romantico e troppo astratto! Però, ragazzi... Mi sta venendo una cazzo di paura adesso... Dopo st'immagine! È sangue! È sangue! È sangue! Mi sta venendo una cazzo di paura, ragazzi! Una cazzo di paura! Anche perché io mi sono schierato nettamente contro quella... Teoria! Che cazzo di paura, raga! Che cazzo di paura! Che cazzo di paura! Vabbè! Vabbè! Noi siamo solo... Persone che possono assistere... A questa grandissima storia! E non possono interagire in nessun modo... Per cambiare la fine della storia! Vabbè! Dobbiamo solamente continuare a leggere! McDonald's! Così! Alla fine! Nuovo mondo! Quartier generale della marina! Che cazzo succede adesso? Vediamo! Era ovvio che dopo quella vignetta Shanks si fermasse... Perché dopo quello che cazzo altro vuole vedere... Però... Allora... Non possiamo permettere all'armata rivoluzionaria di fare quello che vuole a Caino... E qua viene Sabo! Qua viene Sabo! L'imperatore delle fiamme è Sabo! Lo so! Ma non abbiamo più marina disposizione! Quindi crisi assurda! Sabo che tutti chiamano l'imperatore delle fiamme è diventato un eroe per molti nel mondo! E qui abbiamo capito, capiamo adesso perché c'erano quegli... Quelle enormi immagini di Sabo qualche capitolo fa appesa ai muri di una città! È diventato l'eroe per molti nel mondo! L'uomo che è stato assassinato a Reverie era uno dei discendenti di una delle 20 famiglie che 800 anni fa fondarono il mondo come lo conosciamo! Nefertari Cobra! Questa era la cosa più scontata del mondo! E ovviamente hanno dato... Era il capitolo scorso che... Ovviamente hanno dato la colpa a Sabo! Ovviamente! È una conquista incredibile per l'armata rivoluzionaria! Il capo di stato dell'armata rivoluzionaria uccide il re della Basta! Sabo assassinato a Reverie Cobra! Allora, questa cosa è molto strana! Cioè... È molto strana in che senso? Io non ci crederò mai che Sabo abbia ucciso Cobra! Perché Sabo non è un personaggio che uccide così! Cioè, un personaggio fondamentalmente buono e Cobra è... Sebbene facesse parte dei 20, no? Della famiglia... Di una delle 20 famiglie che hanno fondato il governo Era un personaggio buono anche lui, no? Quindi... L'hanno tolto di mezzo... In qualche modo... Perché voleva sapere troppo... E hanno dato la colpa a Sabo! Però secondo me non è stata neanche un'idea del governo mondiale Quella di dare la colpa a Sabo! È stata un'idea, probabilmente, dei giornali Oppure... La situazione era un pochino enigmatica E quindi si è pensato che fosse Sabo il colpevole! Vai sopra e guarda bene dopo! Che devo guardare? L'uomo che è stato ass... Vabbè, intanto andiamo... Poche ore prima hanno attaccato le residenze dei draghi celesti Nella terra santa di Mary Joyce Ok, lo sapevamo Distruggendo un monumento raffigurante l'artiglio del drago divino Simbolo dei nobili mondiali È stata una vera e propria dichiarazione di guerra Vabbè... Una dichiarazione di guerra... Cioè... I rivoluzionari che dichiarano guerra al governo mondiale Non mi sembra una cosa molto... Assurda I ammiragli Ryokugyu e Fujitora Hanno guidato la difesa della marina Ma alla fine I rivoluzionari Sono riusciti a liberare il loro vecchio compagno Bartolomeo Kuma Bartolomeo Kuma Dalla schiavitù dei draghi celesti E sono fuggiti Quindi ce l'hanno fatta Bisogna vedere adesso Come... Che cosa succede ai... A Kuma L'hanno salvato Ma riescono a farlo tornare quello di prima? Bibi, Bibi Sono sicuro che gli ammiragli si sono trattenuti Poiché stavano combattendo Nella Terra Santa Ma... Non cercare di giustificarli Dice a Kainu A questo terzo tizio Di cui non si sa Non solo Re Cobre è stato assassinato Ma al contempo Si sono perse le tracce Della principessa Bibi Io continuo a pensare che Bibi Sia con Sabo Sabo l'abbia magari salvata Da un tentativo anche Di omicidio Ah, ecco Capo dell'unità Di investigazione della Marina Kuroma Tensei Kuroma Cavallo Nero Ok Stiamo ancora investigando Sulle possibili connessioni Tra tutti questi eventi Immagino Immagino che ad Alla Basta Ci sia il Pandemonio La loro nave non è ancora salpata Dal Porto Rosso È difficile per chiunque muoversi ora Viste le circostanze Immagino il casino Dalla Basta E del caso del tentato omicidio Di Saint Charles Che mi dite? Possiamo considerarlo chiuso? Saint Mioscar Ha preso le parti dei criminali Nella Terra Santa I cavalieri degli dèi Seguono Una loro giurisdizione Per risolvere dispute simili È una situazione complicata Per usare un eufemismo Lasciamo la questione A loro Io penso faccia riferimento A Mioscar Che ha colpito Saint Charles Credo E quindi stanno dicendo Che cosa Stanno parlando di quello che è accaduto E Akainu gli dice So cazzi nostri Lì hanno una giurisdizione Loro E quindi ci pensano loro Parla di questi cavalieri degli dèi Che credo che siano semplicemente Le guardie Credo Penso che sia Qualcosa che non conosciamo Sembra come se la maggior parte Di questi incidenti Sia legata a Sabo Le sue fiamme Della ribellione Stanno divampando ovunque Nel mondo In otto diversi regni I cittadini Hanno deciso di ribellarsi A loro re Mentre essi erano ancora Sulla via del ritorno Quindi Non si capisce Un cazzo Nel mondo di One Piece Un cazzo Casino Caos Totale Ed inimmaginabile Caos Splash page Bello il caos Oh E guardatelo qui Quanto è bello Allora Lo stanno adorando Proprio Come se fosse un dio L'imperatore delle fiamme Sabo Sapete ho fatto così Sapete cosa è venuto in mente Ho rivisto Con Con Matilde Il trono di spade Da capo Praticamente in 15 giorni L'abbiamo rivisto tutto E a Matilde Faceva ridere Sempre la frase Del Non è che faceva ridere Però le piaceva La frase Del Il re del nord Il re del nord Perché c'era Il primo tizio Che presentava Tipo Joe Snow E faceva Il re del nord E tutti quanti dietro Il re del nord Il re del nord Il re del nord E qui E qui farà L'imperatore delle fiamme L'imperatore delle fiamme L'imperatore delle fiamme Sabo Vabbè La sua fama Sta crescendo così tanto Che ora la sua influenza È maggiore di quella Dello stesso dragon Sabo 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 Però Allora Voglio fare una critica Però Voglio fare una critica Cioè Sto cazzo di dragon Porca puttana Non ha fatto ancora un cazzo E già È stato superato Da Da Sabo E tra l'altro È stata una cosa Che io ho detto Sul palco del Rimini Comics Quando Beatrice Lorenzi Ci ha chiesto Qual è il vostro Il vostro Il personaggio Che vi piace di meno Io ho risposto In tutt'altro modo Ho girato la domanda Ho detto Più che dirti Il personaggio Che mi è piaciuto di meno Ti dico Una mia paura Ovvero che alcuni personaggi Molto importanti Di One Piece Visto che siamo alla fine Della storia Magari non vengono Non verranno trattati Come si deve Gli verrà dato Gli verrà dato poco spazio E ho paura Tantissimo di questa Di dragon Perché adesso Ce lo ritroviamo Praticamente Non a secondo post È sempre lui che governa Però già meno importante Per la popolazione Di quanto ormai Lo sia Sabo Lui esce Bravo Lui Ehi Legge giornali Esce sul balcone E gli altri Fanno la guerra Però vabbè E in aggiunta A questo Suo fratello minore Rufi Cappello di Paia È stato Nominato Imperatore L'influenza Dell'imperatore Dei pirati Ah questo è un discorso Addirittura Fanno i discorsi L'influenza Dell'imperatore Delle fiamme È giunta fino Al mondo Dei pirati Suo fratello minore Ha appena rovesciato Lo status quo I tempi I tempi Stanno cambiando Ma proprio con la Poi Si copre il viso Proprio da rivoluzionario Al cento per cento E di qua Vediamo un po' Cioè il buon Esce sul balcone Anche il buon Akainu Che guarda l'orizzonte E pronuncia Coteste parole Che dire Sono diventato Grande ammiraglio In un momento Davvero infernale Ma non importa Da dove arrivino Le minacce Le rispingeremo E le annienteremo tutte Capitolo della madonna Bello 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 bello